L'amministrazione comunale di Bercetto volevà avvisare i cittadini e i liberi professionisti che a partire dal primo di luglio sarà attivo lo sportello unico edilizia sul sito del comune di Bercetto per la presentazione e la consultazione dei dati relative alle pratiche edilizie in formato digitale via internet. Questo consentirà agli operatori di evitare di registrare tutte le pratiche e quindi di utilizzare il cartaceo, di scansionare tutti i fogli e di avere già tutte le pratiche registrate in prima istanza. Per poter utilizzare il portale che i cittadini possono trovare collegandosi al sito del comune di Bercetto al primo accesso dovranno registrarsi e dopodiché potranno iniziare a compilare passo passo a passo i moduli che possono trovare nei vari step sulla home page del portale che sarà questo www.bercetto.cportal.it. Nei giorni scorsi c'è stata la presentazione di questo progetto da parte degli operatori della ditta Stark che ha potuto spiegare a tutti i tecnici che erano presenti come sia facile ed intuitivo l'inserimento delle pratiche edilizie ed inoltre ha rassicurato tutti gli operatori che avranno un'assistenza molto capillare, potranno essere aiutati passo passo in ogni loro inserimento qualora avessero dei problemi, potranno essere contattare gli operatori via mail, con una chat, telefonicamente e quindi avranno un'assistenza che li potrà aiutare in modo definitivo e non dovrebbero avere problemi nell'utilizzare il portale suo.